a te mi rianimi si mi rianimo lo volevo ammazzare ma sono riuscito non fa male a sinistra non hai così tanta vita ma porco schifo eccolo grande ci sono le cose ma io si ce l'ho un po' aspetta merda aiuto dai sta scurando come il maiale dai l'avevo fatto 122 oh agente questi altri da qua oh porco schifo aiuto eh sta mettila 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 che c'hai? che c'hai? oddio non ho ancora intera no scappo io scappo io no no metti la non ce l'ho io l'ho si ci sto ci sto ma sono una squadra intera stiamo fuori safe cavolo la squadra ahia una da one shot oddio ahi stanno facendo gli altri stanno facendo gli altri si eccolo è one shot guarda terra l'altro arriva eh 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 non so sta fine partita non avrei che me ma con il nabetto che sta a scappare che è fina parte è morto? nooo non ci credo per quanto mi ha speso dai spamma vatti spamma non ho persetto vai l'ho beccato pure io 30 oddio ma poi ci credo tanto deve venire qua se non vuole ok stanno sotto a quell'albero andiamo da Lorenzo andiamo da Lorenzo no aspetta aspetta si siamo dovrò siamo dovrò venire che bastardi uno quasi morto una terra una terra aspetta aspetta stai fermo tre oh grande 3 2 8 eh ok Grazie a tutti.